La storia di questo preside è davvero singolare, infatti egli ha cominciato da solo, scavando con le proprie mani, senza mezzi e da principio senza il sostegno della fiducia degli studiosi. Lo è incominciato quando io mi sentivo libero di me, quando noi uscimmo da un cataclisma di cui io senti qualche botta, dunque allora tornato al mio paese io pensavo questo è un terreno archeologico, stabbia, qui bisogna scoprire stabbia. Alla superficie della terra siamo quello che siamo, o meglio, quello che gli altri ci hanno ridotti ad essere, sotto terra siamo sempre uomini, e che uomini! Grazie a tutti!